6 gennaio 2020 Epifania del Signore La fede dell'Oriente Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 2 Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode e alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli iscrivi del popolo si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo Gli risposero a Betlemme di Giudea perché così è scritto per mezzo del profeta E tu Betlemme terra di Giudea non sei davvero l'ultima delle città principali di Giudea? Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo israele? Allora Erode chiamati segretamente i magi si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella E li inviò a Betlemme dicendo Andate e informatevi accuratamente sul bambino E quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo Udito il re essi partirono ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva Finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino Al vedere la stella provarono una gioia grandissima Entrati nella casa videro il bambino con Maria, sua madre Si prostrarono e lo adorarono Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra Avvertiti in sogno di non tornare da Erode Per un'altra strada fessero ritorno al loro paese I remasi per scienza propria Fecondata dalla rivelazione divina Giunsero a sapere del Messia, il re di Israele E furono guilati per mezzo di sogni e da una stella Inviata da Dio fino alla casa del piccolo Gesù a Betlemme Certamente avevano compreso che quello che doveva nascere Era un re molto importante per intraprendere un viaggio così lungo Quando lo trovarono lo adorarono come Dio I doni che avevano preparato erano di omaggio inequivocabile Oro per un re, incenso per un Dio Mirra per preservare dagli effetti della morte Erode fu costretto a prendere sul serio le profezie della nascita Del Messia, visto il tributo che tre lei da lontano gli portavano Il riconoscimento della regalità per il Messia Era inequivocabilmente il segno della fine del suo E perciò Erode dissimulò il suo intento assassino Per agire dopo il passaggio dei magi Ma il cielo gli avvisò di non tornare da Erode Per non fornire, in buona fede, notizie su di lui Così la sua manragia sete di potere E scogitò la strage dei piccoli Non potendo individuare la famiglia Ma il tempo della morte di Gesù non era ancora giunto Le profezie della universalità del Regno di Cristo Si erano avverate con il segno dell'adorazione dei magi re orientali Tuttavia non possiamo dire Che ci sia ancora un compimento Quanto alla sua realizzazione Se non per tanti segni gettati dai missionari In tempi apostolici E poi dal XVI secolo La grande massa di popoli orientali Non conosce Cristo e non lo adora Il mondo orientale non è mai stato come l'America e l'Africa Ma da sempre è un mondo complesso e culturalmente avanzato Anche riguardo il livello tecnologico l'Oriente Aveva molti punti di vantaggio rispetto all'Occidente Almeno in certi settori La saggezza orientale e le loro arti Rimangono proverbiali Per cui in genere l'Oriente e l'Occidente Si fronteggiano in un continuo confronto o scontro Per fede noi diciamo che l'Oriente Conoscerà Gesù Cristo Ma questo non potrà che essere nel rispetto della loro civiltà Infatti non sembra probabile un avvicinamento alla fede Quando questo significhi anche una occidentalizzazione di massa E così non sarà L'episodio dei Magi insegna che essi per arte e fede proprie furono guidati da Gesù La loro sapienza e la loro vigilanza spirituale Fornirono l'alveo giusto per il messaggio divino attraverso il loro sapere Essi, studiosi delle stelle, da una stella furono guidati Il loro spirito onesto era setato di verità E capirono che dal cielo è raggiunta una guida per l'umanità Così accadrà Che dal cielo sarà inviato un segno Che l'Oriente comprenderà E lo farà avvolgere non all'Occidente Ma a Gesù Ovunque si trovi Ovvero nei cuori dei suoi fedeli Roma è l'Occidente Ma l'Occidente non è Roma Come Erode era il re di Giudea Ma non era il Messia Il nuovo mondo in Messico Venne convertito di colpo Dall'apparizione della Vergine di Guadalupe Nessun missionario riuscì Ma battezzarono le masse per giorni e giorni Poiché chiedevano il battesimo dopo l'apparizione Così potremo attendere Per mezzo di preghiere e sacrifici La conversione alla fede dell'Oriente Che allora chiederà il battesimo Ma ciò avverrà per la sapienza di Dio Che saprà toccare menti e cuori Di una cultura antica e gloriosa Ancora in attesa della propria pienezza Inca Dio vi benedica